Buongiorno a tutti e buon giovedì. Sono qui nella sacristia. Sapete cosa mi emoziona? Quando qualcuno viene da fuori ed entra in questa sacristia, che non è grande o perfetta, ma la prima cosa che fanno le persone quando entrano in questa sacristia è guardare quella Madonnina che sta alle mie spalle. E tutti mi dicono la stessa cosa. La Madonnina che vedo tutti i giorni. Ed è per questo che a me piace fare il video del buongiorno o della buonanotte qui. Ogni tanto cambio. Ma la Madonnina, che bella questa mamma nostra. Mi si commuove il cuore a pensare la tenerezza di questa mamma. E in questi giorni sto pensando già alla festa della mamma, che si celebra l'8 maggio, che poi è il giorno anche della supplica. E poi alla fine della benedizione vi dirò una cosa importante. E ancora una volta voglio dedicarvi dei versi di questo nuovo libro. Io ci tengo tantissimo a questo nuovo libro, perché l'ho scritto con il cuore, ci ho messo il cuore, c'è la mia vita, c'è la vostra vita. Ci sono tante cose importanti. Molti le avete già acquistate, alcuni lo state leggendo, altri lo state aspettando. E qui, tra queste pagine, parlo della vedova di Nain. Una madre che sta accompagnando al cimitero il proprio figlio. Che dolore immenso. Quando rimani, ecco, senza padre ti chiamano orfano. Quando rimani senza marito ti chiamano vedova. E quando ti muore un figlio, come ti chiamano? E allora a tutte quelle mamme che hanno perso un figlio, a tutte quelle mamme che lottano con il dolore dei propri figli, a tutte quelle mamme che si vedono i figli lontani, a tutte quelle mamme che non hanno il saluto dei propri figli, a tutte quelle mamme che non hanno la gioia di poter avere i figli accanto, ma anche a tutte quelle mamme che possono ogni giorno abbracciare i figli. Quindi a tutte, a tutte, tutte le mamme e anche ai papà che stanno vicini alle mamme, dedico queste parole dal mio libro, Lo sguardo di Gesù, pagine di misericordia, Tao Editrice. Le tue lacrime sembravano inesauribili finché hai sentito forte quella voce, non piangere. Un uomo, uno sconosciuto, che ti guarda come nessuno aveva fatto mai, senti che è uno sguardo carico d'amore. Mai nessuno ti aveva parlato così. Una voce forte e tenera allo stesso tempo. Non hai avuto neanche il tempo di rispondere, perché i portatori si sono fermati. Chi è quest'uomo che prima ti dice di non piangere e poi tocca la bara di tuo figlio? Dopo pochi istanti tuo figlio, morto, lo vedi seduto e lo senti parlare. Chi è quest'uomo che ha fatto tutto questo? Il timore e lo stupore avvolge tutti. Tu non riesci più a parlare. Non capisci cosa sta succedendo. Sì, quel ragazzo è proprio tuo figlio che hai visto morire e lo hai avvolto in un lenzuolo e forse avevi pensato a come morire insieme a lui. Avevi pensato tutto e non ti restava che morire. Sai, sorella, provo a pensare a tutte quelle madri che sono sedute accanto ai loro bambini in un letto di ospedale e magari sanno già che dovranno morire, però si aggrappano con tutte le forze a quel filo di speranza che rimane nel centro di riabilitazione dove vado a fare fisioterapia c'è una bambina che ha un brutto male alla testa da tre anni. Forse mentre stai leggendo queste pagine e adesso le stai ascoltando lei non c'è più. È un male aggressivo che non dà scampo. Quando l'ho conosciuta aveva i capelli, camminava e parlava correttamente. Ora non parla e non cammina più correttamente. Ha perso i capelli, berretto e occhialini colorati per rendere meno triste l'amara realtà. Mamma e papà si alternano nei loro occhi tanto dolore ma c'è sempre quel dolce sorriso. Forse noi proviamo pietà. Gesù invece prova compassione ovvero prende quel peso e lo porta insieme a te. Dedicato a tutte le mamme e a tutti i papà alle nostre mamme e ai nostri papà anche a quelli che non ci sono più per tutto il bene e l'amore che ci hanno dato. Ecco cosa c'è in questo libro. C'è il mio cuore e se ancora mi commuovo nel leggere queste righe vuol dire che ci ho messo tutta l'anima pensando a voi. E allora voglio darvi la benedizione per questo giorno. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Alle 14.50 la coroncina alle 17.20 il rosario e poi domenica 8 maggio vivremo qui nella chiesetta di Simeri questo vale per tutti gli amici che sono vicini e vogliono venire un momento di preghiera. Dalle 16 in poi sono disponibile per le confessioni. Alle 18 il santo rosario 18.30 messa benedizione delle mamme supplica e breve processione. Vi voglio bene. Tanto.